La prima volta a Venezia, Venezia 73, che emozione essere qui! A parte che vuole farti complimenti subito perché sei bellissimo! Grazie, grazie, dovevo per forza mettermi questo abito, dovevo trovare un posto per potermelo mettere, allora sono venuto proprio qua. Una grande emozione, amo tantissimo questa città, sono venuto un sacco di volte mai al festival, come hai detto tu, e sono contento di essere qua, cercherò di guardarmi più cose possibili, di sfiorare Sorrentino se riesco, insomma ci sono un sacco di artisti con la maiuscola, quindi sono veramente contento. Sulle celebrities internazionali ci sono veramente dei personaggi importantissimi, c'è qualche film in particolare appunto di questi stranieri che attendi, che vuoi vedere? Guarda, ti cito un italiano, voglio citarti, non un straniero perché l'ho appena visto, che è Tommaso, il film di Kim Rossi Stewart, è il secondo film da regista per lui, mi pare, lo attendo da tantissimo tempo, è un attore che mi piace tantissimo e soprattutto anche un regista che mi piace molto, è uno che è riuscito a fare nella sua carriera di tutto e di più. Che gli stranieri siano bravi, forti, belli, abbiano il grano lo sappiamo, cerchiamo di supportare gli italiani perché ne hanno bisogno soprattutto nel cinema. Dopo questa battuta tricolore ti salutiamo, grazie, è stato veramente bellissimo per ti incontrato, e anche un omaggio a tutti gli artisti italiani che sono qui e presentano le loro opere. Grazie. Ciao, ciao. 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 Ciao.